In questo video voglio parlarvi di un controller di EasySMX, un'azienda specializzata nella produzione di periferiche da gaming economiche. Quindi, diciamo, se siete alla ricerca di un controller economico, compatibile, eccetera, eccetera, allora EasySMX è un'azienda che potrebbe fare al caso vostro. Anche perché se andate su Amazon e scrivete EasySMX trovate un casino di controller. Facciamo subito l'unboxing di questo controller e vediamo che cosa ha da offrire. Quindi apriamo la confezione, vediamo cosa si cela al suo interno. Come vedete, diciamo, EasySMX utilizza molto il cartone per imballare i suoi prodotti e sono imballati con estrema cura. Inoltre sono ben protetti durante il trasporto, quindi magari per evitare danni durante la consegna. Ok, mi è caduto tutto a terra, perfetto, è il bello della diretta. Ok, nella confezione troviamo dei manuali di istruzione che non servono a nulla. Ora, poi abbiamo, se ci riesco a tirarlo fuori, il cavo di alimentazione, o meglio, di ricarica del controller, come potete vedere, Type-C USB. E poi abbiamo la chiavetta USB, perché il controller è wireless, quindi serve la chiavetta per utilizzarlo. E poi, ovviamente, il nostro bellissimo e comodissimo controller. Il controller, come potete vedere, ha lo stesso design di quello Xbox One, sia nell'impugnatura, sia nella disposizione di alcuni tasti. Presenta due stick analogici, lisci al tatto, per quanto riguarda la parte superiore, però ruvidi intorno. Quindi, diciamo, mentre impugnate il controller, avrete una superficie liscia sotto, diciamo, le dita. Mentre durante il movimento degli stick analogici, diciamo, avrete una superficie ruvida. Abbiamo la croce direzionale, che è unita, è tutto un blocco, come potete vedere, però riesce, diciamo, a premersi in modo individuale, come vedete. Quindi, non rischiate, magari, se premete la croce direzionale verso il basso, di premere tutto il blocco, anche se è tutto un blocco, non è separato. Poi abbiamo i quattro classici tasti, e voglio mostrarvi subito una chicca. Come vedete, si accendono come un albero di Natale. Anche qui abbiamo un LED davvero particolare, che ricorda, tra l'altro, quello Nekon. E abbiamo poi, diciamo, il LED che ci mostra, appunto, lo stato di funzionamento del controller. I quattro tasti sono i classici A, B, X e Y, che trovate poi non solo sul controller Xbox One, ma anche su molti altri controller. Poi abbiamo il tasto di accensione, che funge anche da tasto like Xbox One, come si suol dire. Perché una volta che avete collegato il controller al vostro computer, potete utilizzare questo pulsante, appunto, per simulare quello Xbox One. Poi abbiamo i quattro tasti aggiuntivi, che, diciamo, due fungono da Start e Select, da Back e Option, eccetera, eccetera. E altri due possono essere mappati, alias personalizzati, secondo le proprie esigenze. Infatti, se notate, c'è scritto Back Turbo e di qua abbiamo, invece, Mod, Modalità e Start. Quindi potete utilizzarli sia per attivare il Turbo, sia per cambiare modalità di utilizzo, oppure possono essere mappati senza problemi. Poi, al centro qui, abbiamo altri due pulsanti. Purtroppo le icone, così come le scritte, sono davvero illegibili. Abbiamo però il pulsante che permette di cambiare la luminosità del controller, una volta sincronizzato. E poi un altro pulsante per la vibrazione. Potete comunque, poi, personalizzarli come preferite. Se giriamo il controller, abbiamo questi due tasti macro, quindi programmabili e personalizzabili, che fungono, diciamo, da grilletti posteriori. Ora, se avete mai impugnato il controller Elite della Xbox One, ha quattro, diciamo, levette che fungono da questi pulsanti. Quindi, praticamente, quando voi premete questi pulsanti posteriori, queste levette, è come se premete questi pulsanti. Questo discorso, naturalmente, sul controller Elite di Microsoft. Qui potete programmarli e quindi, diciamo, assegnare l'istruzione che meglio preferite. Poi abbiamo i quattro classici dorsali, R1, L2, L1, R2, ok, mi sono imbappinato, va bene. E poi, ovviamente, l'ingresso per ricaricare il controller con il cavetto che trovate nella confezione. Comodo da impugnare, soprattutto perché presenta una superficie antiscivolo, come potete vedere, economico, quindi accessibile come prezzo e resistente alle cadute. Cioè, è veramente un ottimo controller che potete utilizzare su PlayStation 3, su Smart TV, su Box TV, tablet e smartphone Android, su PC e su Raspberry. Benefetto. Benefetto.